Decisamente è da sottolineare le cose positive di questa partita, per cui la reazione dopo la sconfitta subita a Reggio Emilia, abbiamo affrontato Venezia cercando di rimettere la difficoltà sotto il punto di vista dell'intensità e ci siamo riusciti fino a quando la partita si è decisa sui piccoli dettagli, sui palloni importanti del finale di partita e purtroppo non li abbiamo gestiti nel migliore dei modi, però c'è da considerare lo sforzo manifestato di tutti i giocatori nel cercare di continuare nel nostro percorso che nell'ultimo mese è stato molto positivo e cercando di raggiungere questi due punti abbiamo provato con Venezia e sicuramente continueremo a cercare questa vittoria soprattutto adesso andando a Treviso, cercando di reagire nel miglior modo possibile. Ma va dato gran merito a Treviso perché secondo mio parere è una delle squadre che è stata più costante nel migliorare durante tutto l'intero corso del campionato nel girone di ritorno è una delle squadre con il miglior record tra vittoria e sconfitte per cui troviamo una squadra che con l'innesto di Sokoloski e Trent Lockett hanno aggiunto quella completezza di pericolosità che già avevano però adesso sono diventate una squadra affidabile, solida e molto pericolosa sia sotto canestro per cui saranno molto importanti il controllo dei rimbalzi e sia dal perimetro sappiamo benissimo che giocatori come Logan, Imbrò, Sokoloski stesso sanno aprire il campo e diventare mortiferi purtroppo ricordiamo anche le conseguenze della partita d'andata quindi sarà importante come dicevo la lotta sotto i rimbalzi, il controllo dei rimbalzi e evitare il più possibile le palle perse per far sì che non abbiano possibilità di giocare in campo aperto è una squadra che fa dell'attacco, della fluidità dell'attacco, del movimento, la loro pericolosità e sicuramente noi dobbiamo mettere in campo una partita di energie, di grande intensità e di molta attenzione e concentrazione per 40 minuti